Il Comune di Cappelle sul Tavo premia le eccellenze dello sport attraverso una bella manifestazione. Ne parliamo con il Presidente del Consiglio Comunale, Angelo Anselmi. Io comunque voglio precisare che insieme a noi, al Sindaco, l'Assessore Claudia Tatone, ci siamo impegnati proprio a poter riconoscere che in questo Comune ci sono effettivamente delle eccellenze. Io credo che ogni territorio abbia delle eccellenze, ragazzi giovani, meno giovani, che comunque hanno ottenuto dei risultati nello sport, nell'arte, nello spettacolo, insomma. E quindi abbiamo pensato di valorizzarli, di dare loro lo spazio, lo spazio necessario per farli anche conoscere a una platea maggiore, un pubblico maggiore. Credo che sia importante per loro. Tra i premiati di questa particolare manifestazione, Festa dello Sport a Cappelle sul Tavo, non solo il gioiellino del Delfino Pescara Marco delle Monache, ma anche tanti giovani di prospettiva. Lo chiediamo all'Assessore, al ramo, Claudia Tatone. Sì, molti sono i ragazzi che ci rendono orgogliosi della nostra comunità e tra questi ci sono ragazzi che si sono dedicati all'arte, che si sono dedicati alla fotografia, allo sport. Diciamo che è un'iniziativa nata anche come... Il grande stimolo è stata la presenza nella nostra cittadina di Marco delle Monache, che è diventato la punta di diamante, diciamo, di questa comunità. Da lui si è cercato di valorizzare quelle che sono tutte le eccellenze sul territorio e di tutti i ragazzi. È la prima edizione, spero e sono sicura che l'anno prossimo ci saranno ancora più ragazzi da premiare perché Cappelle è un paese giovane e questi giovani ci rendono davvero orgogliosi. Vogliamo fare qualche nome, vogliamo ricordare i premiati? Sì, allora, i premiati sono Andrea Di Rosario, Elisa Comignani, Andrea Solfi, Asia Caporale, Eliana De Emilio, Noa Leonetti, Ilaria Travaglini, Camilla Trave e Petra Trivilino. Come ripeto, ci sono tante attività, ci sono tante sfaccettature della società, da quello letterario a quello fotografico, alla moda, diciamo che i nostri ragazzi si fanno valere in ogni campo.